rtl cento due cinque giornale oraria. Buona nottata da Gabriele Manzo e Angela Gugliara. Il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto in undici articoli che proroga fino al trentuno di marzo lo stato d'emergenza per la pandemia e tutte le misure collegate. Intanto nasce un'infrastruttura presso un sito militare per lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali. La variante Omicron preoccupa l'OMS si diffonda ad una velocità mai vista. È probabile che diventi predominante in Europa ed è pericoloso liquidarla come blanda. Nel mondo c'è uno tsunami di casi e i governi devono agire subito. Le CDC parla di due mila cento ventisette casi di Omicron confermati in Europa, ventisette in Italia e la Francia vuole rafforzare le frontiere con la Gran Bretagna. Sono stati trovati a Ravanusa i corpi senza vita di Calogero e Giuseppe Carmine a padre e figlio gli ultimi due dispersi dell'esplosione di un palazzo di quattro piani avvenuta a sabato sera in cui sono morte altre sette persone. Entrambe le vittime si trovavano nel garage. Oggi lutto cittadino ad Agrigento, il Papa in un telegramma ha espresso il suo cordoglio e partecipazione al dolore dei familiari. Fonti egiziane informate che hanno chiesto l'anonimato hanno riferito che Patrick Zaki è su una blacklist che gli impedirà di andare in Italia prima della fine del processo e di una soluzione contraddicendo quanto sostenuto da Patrick di recente in tv. Amnesty International conferma non c'è nessuna meraviglia ma servono pazienza e speranza. E per ora è tutto linea al traffico. Una buonanotte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione. Vi informiamo però che sulla 26 Genova Grave Lunatoce per programmati lavori di ammodernamento della rete rimarrà chiuso fino alle 6 di questa mattina il tratto tra il bivio con la 10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione di Grave Lunatoce. E non ci sono al momento ulteriori segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.